Non vaga piede libero per la statale. Attenzione, stiamo parlando di un pericoloso squilibrato. Elementi nuovi arrivati proprio in questo momento ci dicono che il maniaco, dopo aver chiesto un passaggio, ha trucidato un uomo per poi passare a un'intera famiglia, marito, moglie e una bambina piccola. E' alto, corporatura media ed è palesemente uno psicopatico. Fate attenzione. Perché ha spento? Dobbiamo giocare a questo gioco? Vabbè. Però vediamo come va a finire.